Hai parlato con Aogo, perché in questo momento Aogo è al centro delle attenzioni della Juventus. Ho letto i giornali ma non voglio chiedergli niente perché so che lui è un ragazzo molto tranquillo che cerca di pensare sempre all'Hamburgo, di far bene ogni partita, quindi non voglio mettergli niente. Ma tu alla Juve lo suggeriresti un giocatore come lui? Penso che ovunque lui vada possa fare bene, è un gran giocatore quindi penso che possa fare bene ovunque.